popolo di orza sti search lab benvenuti in un nuovo episodio siamo tornati e siamo finalmente tornati post pro tour post amsterdam post un sacco di cose in realtà quindi un saluto da merico e pentole bicchieri che torno nella scena di magic italia che abbiamo abbandonato per un po per un po di eventi siamo stati al power geddon avete visto le due interviste di cui siamo molto orgogliosi assolutamente sì due di livello belle persone soprattutto belle persone perché abbiamo passato anche un po di momenti extra fuori no dal dalla mera intervista e c'è stato un po di interazione insomma molto molto bene sono molto contento l'avete visto insomma anche dalle nostre espressioni insomma molti sorrisioni molte cose i video sono fuori ci ha avuto un po di fatica ma a far tutto però insomma però c'è stato il pro tour quindi tante cose sono successe stiamo prendendo tante note abbiamo ascoltato tante cose abbiamo scritto la community ci siamo confrontati con tante persone anche perché comunque al power geddon c'è stato anche il modern geddon il giorno dopo quindi già un po di così iniziavano a venire fuori grandi acquisti da parte nostra in generale e buon dottor adinolfi che ha fatto un plus sostanziale di flash che all'inizio non voleva prendere perché ho visto a 30 l'ho spinto io dicendo guarda che 30 forse oggi non mi più ed effettivamente dopo che ne ha trovati 4 in maniera roccambolesca perché molto uno all'inizio avevano trovato uno allo stand di bose uno da bose che poi me ne ha tenuto un altro perché l'ho chiesto io e chiesto ascoltami quando te ne arriva un altro tienemelo che te lo compro a fine giornata poi uno l'ha sbustato derrick sì sì derrick dal drastro che salutiamo che ha fatto anche un ottimo prezzo che te l'ha da chi l'ho preso secondo me da un altro stand secondo me da un altro stand erano quelli accanto a ronin che salutiamo comunque erano sì sì erano quei ragazzi che erano accanto ronin non mi ricordo non mi ricordo il nome purtroppo perché abbiamo incontrato un po tante persone facciamo un po schifo ricordarci le cose ma mentre che mirko di olfi va su con con il plus io vado sotto tantissimo grazie alle mie ranocchiette continuano ad aumentare siamo a quota 38 ranette sono tante sono davvero tante ranette e ho scoperto di avere più rane old layout foil io di tutto car market italia perfetto così sono quelle che stanno di più però sono quelle che stanno di più perché perché la ranetta per chi non lo sapesse oltre che un pochino in modern ma lo vedremo dopo con gorio sta venendo giocata tantissimo in legacy in dimir scam che è il mazzo più forte certo e ovviamente i ragazzotti in legacy non vogliono la ranetta foil normale ma vogliono la old layout old layout ovviamente stiamo parlando di una carta da 40 euro foil più o meno più o meno siamo su quella cifra insomma abbiamo dedicato uno spazio nel nostro weekly price date assolutamente però siamo qua oggi per parlare chiaramente delle liste più forti che abbiamo visto insomma quelle che hanno fatto i maggiori risultati durante questo pro tour di modern aison 3 ad amsterdam al magic on the amsterdam intanto complimenti finalmente si è consacrato vincitore del pro tour il signor simon nissen player of the year 2023 già in lizza per il kybude player of the year kybude award 2024 esatto per chi non sapesse kybude ha fatto questo speech alla fine del prima della top 8 in cui diceva che non avrebbe più potuto giocare competitivo esatto purtroppo c'è una malattia di mezzo esatto i motivi di salute molto molto seri stato un momento toccantissimo re duke che piangeva tutti che piangevano il gran giocatore german juggernaut esatto german juggernaut il papà in realtà è quello con più pro tour vinti se non sbaglio sì ma in realtà lui è proprio una figura storica anche non solo per risultati proprio come persona no un po il maestro di tutti quelli che sono ormai la vecchia guardia tipo una siffra esatto esatto loro sono la vecchia guardia di oggi in realtà è il loro precursore vecchia vecchia guardia esatto gli anni 90 anni 90 inizio 2000 è stato proprio 93 94 iniziato quindi simon nilson che mette tra i suoi risultati quello che gli mancava praticamente solamente esatto gli mancava il pro tour e adesso mancano i mondiali adesso mancano i mondiali che comunque si è sicuramente qualificato assolutamente sì e quindi questa è un po l'argomento del giorno passiamo prima agli sponsor così chiudiamo subito questa piccola parentesi marchettosa diventiamo blu per i nostri sponsor mezzo cielo in friends che finalmente abbiamo rincontrato dopo molto tempo perché è don di piso quindi un grande saluto assolutamente sì tra l'altro piccola parentesi dovevamo organizzare una cosa per vedere un piccolo contenuto ah sì vediamo e dovevamo organizzare con aiz e con gli altri alla fine sono usciti c'è stato un momento libero da parte di nessuno dei due piccola nota margine finalmente il dottor ha di nuovo il fi ha conosciuto il dottor ciavatta mirko ciavatta sì esatto io no perché non c'è non ero con lui non eri con me in quel momento eh sì mi ha rappresentato nina shivan eh esatto ciao shivan complimenti per i tuoi disegni ma complimenti per i token complimenti per i token a mezzo cielo in friends facciamo vedere l'insettino insettino 1 1 di nantuko l'ottimo più che ottimo nantuko perché oggi parleremo tanto di nadu e lo faremo dopo aver annunciato che col nostro codice url 5 potete avere un 5% di sconto su tutto il loro catalogone quindi sicuramente se giocate a nadu vi serviranno un sacco di insetti e loro sono qui a posta a disposizione tra l'altro quello che ho fatto vedere mi pare che sia pure foil esatto è foil assolutamente quindi assolutamente pentolo e bicchieroso assolutamente pentolo e bicchieroso come nadu tra l'altro come nadu sta giocando il ragazzo ma finché può parleremo anche di quello sarà una lunga lunga giornata di registrazioni per noi faremo tanti video soprattutto oggi però prima di passare al resto volevo anche dire che ci sono i nostri buonamenti con i quali potete supportare il canale in maniera autonoma è in diretta quindi sempre chiaramente quando il coaching è più indicato ci sono spazi liberi sono arrivati tanti nuovi coaching assolutamente soprattutto alla mia parte di control è arrivato un jesky control un nuovo giocatore che deve entrare in modern e un giocatore di pioneer quindi pazzesco 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 amalia boys a parte che è un pessimo momento per diventare amalia boys si esatto è un po' però se volete diventare nadu boys ora o mai più nadu boys adesso per il poco tempo che forse rimane non si sa vedremo 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 quindi bravo simon nielsen bravissimo torniamo al topic principale peccato per il pro tour perché la top 4 sono 4 mazzi praticamente identici allora ci sono le piccole differenze o i numeri o i numeri sono 4 nadu in top 4 5 nadu in top 8 10 nadu in top 16 16 nadu in top 32 esatto la metà del top 32 giocava praticamente lo stesso archetipo diciamo così per essere perché ci sono c'è la versione bant la versione simici dritta la versione quattro colori che splash e bow masters però tanto alla fine è sempre natu shuko l'antubo è sempre natu shuko l'antubo alla fine l'idea è sempre quella allora bant nado vince il pro tour si con simon nielsen allora quello che volevamo far noi anche perché ci sono arrivate tantissime domande è stato un pro tour di fuoco assolutamente cioè io che viaggiavo tra roma napoli verona per i concerti il matrimonio poi c'è stato il pro tour tu eri qua a fare altre robe il trasloco che deve ancora finire il lavoro in generale c'è un disastro però tantissime domande l'unica cosa che ho notato che tante persone chiedessero come funziona nadu perché perché nadu le protoliste di nadu giocavano tassas oracle esatto finì il mazzo e quindi ah ho vinto però ovviamente il giocare tassas oracle la rende particolarmente debole da due cose dal endurance che è carta iper giocata al momento quindi ah faccio tassas oracle ok rimiscati il mazzo e ricominciamo da capo e da counter banalmente counter si che sono tornati a essere forti banalmente la carta costo uno che cancella i trigger che counter i trigger con sign to memory esatto dove c'è urza che piange se non sbaglio tante lacrime no assolutamente scrai boys don't scratch saluto come funziona quindi questa fantomatica com che sia che sia la versione con orchetti senza orchetti più o meno l'idea è questa a noi serve nadu che altrimenti si chiamerebbe nadu poi o shuko o l'outrider anchor che praticamente fanno la stessa cosa ovvero ti danno trigger infiniti tra regolette a costo zero a costo zero serve il nantuco nantuco carta incredibilmente tra l'altro qualche take dice di toccare nantuco e non nadu potrebbe essere interessante cosa fa nantuco bestow a costo due la creatura incantata più uno più uno cosa che ci si dimentica non è stupida buffa pure buffa pure nel dubbio buffa e poi a landfall e poi a landfall chi dice con landfall ogni volta una terra intra sul campo di battaglia sotto il tuo controllo puoi pagare uno uno verde se spring card nantuco è attaccato su una creatura che controlli se lo fai crea un token che è una copia di quella creatura se no fai un insetto uno uno attenzione cosa importantissima su come guardato nantuco perché nantuco è uno di quegli esempi di carta scritta talmente bene che sembra confusionario perché ci sono un sacco di casi limite tipo se io con bestow il target una creatura dell'avversario anche se io non controllo la creatura e faccio un landfall faccio un land quindi un landfall trigger comunque l'uno uno lo faccio chiaramente non posso fare la copia no perché c'è scritto io controllo perché ovviamente non la controlli però l'uno uno lo fai quel if you didn't create a token this way cancella totalmente quello che c'è scritto prima quindi se tu non lo fai qualsiasi cosa ci sia fai l'uno uno anche se il nantuco è sul campo e basta e non è sopra una creatura fai comunque l'uno uno sì sì molto pulito nella scrittura è talmente pulito che la gente tende a non capirlo perché pensa che sia tutta una roba unica esatto allora non fa nulla ci sta questo chiaramente ci serve per andare per mandare avanti la combo quindi sostanzialmente nato ci dà i trigger ci dà le terre ci mette tra l'altro direttamente in campo stappate perché ovviamente non potevamo farci mancare nulla metti insettino insettino vuol dire che almeno due trigger in più e continui 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 e cosa ci serve questa cosa beh caro mirco abbiamo endurance abbiamo silvan safe keeper esatto quindi ottimo possiamo presentare un loop in cui ci sacchiamo tutte le terre e ce le rimischiamo con endurance e continuiamo il loop sostanzialmente così che noi con le horizon land possiamo arrivare ad un punto in cui possiamo fare otawara e bosei giù infinite quindi sostanzialmente fai board wipe del anzi board clear proprio l'unica cosa che rimangono fuori sono le terre base sono le terre base otawara non può rimbalzare le terre quindi le terre base rimarranno lì ma tanto modern non è un godo ti giocano tante terre base in questo momento ma in generale c'era anche chi aveva portato qualche versione con menzer shaper servant shaper servant che tra l'altro serve per rimbalzare anche le terre base anche permanente quindi è come tutti i command e che era la versione portata da jason yeah quella sì esatto c'erano alcune versioni però questa qui è andata meglio che utilizza un po la combo la più dritta possibile credo quella più semplice cioè in pratica tu devi fare sostanzialmente due loop di endurance perché il primo ti devi saccare le terre eccetera eccetera il secondo quello dove fai tutto se hai creatura attaccanti c'è anche bristly bill esatto aculeo in italiano ottimo aculeo aculeo non è incredibile uno dei pochi casi in cui il nome in italiano fa un botto più ridere di quello in inglese thunder junction mitica che entra in moda non si è guardato nessuno a un certo punto è salita 15 euro adesso sta quello di più 5 22 dollari 22 dollari pazzesco serve perché diamo sostanzialmente counter infinite a un pezzo e picchiamo e poi picchio per infinito se possiamo picchiare questo quindi è come funziona nadu ok in generale poi abbiamo una lista davanti per farvi un po capire si vede subito che è una lista toolbox come abbiamo già detto prima in realtà prende degli elementi da quelli che sono i mazzi combo più conosciuti quindi per esempio ha il titan prende i summon expect prende l'urda saga e nient'altro in realtà forse alcuni elementi di sai sicuramente spring hard d'antucco si sta giocando anche d'antucco 4 in titano però titano non ha senso giocarlo chiaramente perché nado più forte c'è la gente molto stupita del ah perché nessuno gioca titano ragazzi perché nado è titano ma meglio sì c'è arvei dominic arvei giocava nado esatto è un segnale se dominic arvei non scegli di giocare titano e poi per il resto abbiamo una nuova lyra 4 halfling per farlo di secondo incounterabile dried harbor perché è una creatura che comunque può far entrare e può essere targhettata da shuko soprattutto heguer might perché è forte è una carta incredibile in questo sì oltre al fatto che ci puoi mettere sopra sempre a costo 1 però può distruggere le shuko degli altri togli le shuko degli avversari l'esilia quindi ciaone e sia la safe keeper tra l'altro noble hyrarch se io faccio le nantucco e le copio anche quello è il modo di presentare l'ital perché hai un mille copie di noble hyrarch picchi con un pezzo e si pimpa e si pompa di un miliardo di pezzi è vero è vero ma che erano tutti exalted si si è tutto esaltato che strano 0 1 incredibile in questo meta e poi vabbè brissy bill che abbiamo detto è una win con perché la cosa importante è che ok landfall quindi ogni volta che metti una terra metti un plus 1 plus 1 su una target creature però a costo 3 e 2 verdi poi raddoppiare il numero di counters che controlli su ogni creatura quindi comunque esatto avrai mana comunque infinito una certa praticamente giocarlo quindi a una fine può essere quasi deterministico non lo è non lo è infatti un disastro se devi presentare il loop puoi briccare e un po ricorda second sunrise second breakfast lo chiamavano non mi ricordo bene mi ricordo la carta si chiama second sunrise però il nome dell'archetipo stato quella era ovetti in italia era ovetti ovetti è vero i regs madonna poi abbiamo world of roots che è preso un po in prestito da yagmoth come endurance ovviamente 4 nadu outrider and core per quello che abbiamo detto prima assolutamente è una carta che non serve a niente questo mazzo serve solo a dare questo trigger e a costo zero i siamo nel pack l'accordo calling che chiaramente viene da yagmoth 4 shuko perché servono per la combo 2 one ring 2 one ring è una tecnologia un po di simon niente se ne basta nel senso che altre list sempre di sono sbaglio gioca di side si l'abbiamo visti nella side jason ye proprio non gioca in one ring e non solo non gioca neanche i patti gioca l'aspetto orrenda di modern horizon 3 quella costo 2 credo si chiama malevolent rumble qualcosa del genere vado subito a vedere malevolent rumble esatto malevolent rumble e jason ha anche vencer shaper saving ok malevolent rumble quella che guarda sì sì anche in paper ti lascia pezzettino ti lascia pezzettino così puoi fare dei trigger in più oppure per fare turno 3 nadu shuko perché si alla drum anche main deck wandering ci sono delle delle differenze sostanziali però io mi concentrarei su quelle che ha vinto anche perché comunque comunque sono tutte liste bunt che hanno diverse copie ognuna alcuni sono un po più gridi altri più control alcuni attimo più un po più puliti questa forse la versione di sam nielsen e ha quattro shuko e due warring quindi comunque vuole giocare questo tipo di cose un po più dritte cioè ti metto la carta che mi serve direttamente non che mi vada a cercare quattro saga le vosei giù una soluta warra cioè quindi se sparisce quella utawara se viene esiliata perché non puoi esiliare una terra veramente raro esiliare una terra difficilissimo c'è ragam che te l'ha te l'esilio esatto un'oltre c'era crumble to dust crumble to dust la grande carta l'ottima crumble to dust mamma mia contro amulet titan anzi contro quello scapeshift esatto contro scapeshift contro scapeshift si trono si trono però era già lenta per fronte questa quarta già tardi molto molto tardi era meglio fare filled or ruin poi per reparto land in realtà è una manabase bant molto classica nel senso non ha grandi cose ovviamente le quattro ursasaga le vosei giù l'otawara shifting woodland eccetera tutte queste tecnologie qui sono molto come dire gridi sono manabase infatti c'è un botto di land 25 terre sì 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 ursasaga anche disintegra totalmente la manabase in modo sostanziale infatti non c'è neanche la tecnologia di sunforge mystic no 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 trovi sciuco a una certa e questo è quello che ti aiuta a farlo assolutamente tra le saghe i patti record of calling per nadu e tutti i pezzi che ti servono prima o poi verrà fuori qualcosa assolutamente si vince impossibile non farlo infatti samon nilson non so se hai mai visto le mani che ha fatto samon nilson durante le fasi dell'autopotto alcune sì altre no pennellate pazzesco player of the rear for arisa vabbè singono così non è non ci sono altri altri modi cioè bisogna anche pescare bene c'è poco da fare nella sideboard invece abbiamo un po di vecchi ritorni di carte vecchie sideboard stranissima questo è una vita che non lo vedevo forge tender è tanto fortissimo l'unica sfortuna che ha che non targhetta perché dice prevento il damage a red service of your choice quindi interessante come cosa e poi c'è protection from red sì ovviamente ti pari da the grapeshot a queste cose qua credo sì da grapeshot più che altro flage finalmente flage esatto poi abbiamo shadow spear chiaramente per il piano usasaga sì ha un figlio e poi è stato anche beat down però il fatto che perde un ex proof indestructible permanence your opponent perde un ex proof credo che in questo momento non sia così non sia relevante oppure c'è un caso specificissimo che non mi viene visto perché hanno tutti i mirror match quindi non serviva uno spell pierce ci sta due velo summer per proteggere il proprio spell ovviamente drannith magistrate storm sì vabbè sì è un disastro per storm questo qui non toglie mai sì perché è una removal storm e living end anche perché c'è un living end che rischiava di andare in top off aver dominguez ha vinto solo perché aveva due drannith magistrate in canto e non uno poi abbiamo solest jailer questo viene da yakmot quello che dice permanent cards in graveyard se non posso entrare non puoi castare non creature spell from graveyard or exile eh sì anche qua anche qua per storm sostanzialmente sì sun cleanser grande carta che sta vendendo uno spike assoluto cos'è m19 m19 di questi qua ne ho anche secondo me ne ho qualcuno da qualche parte questa è una rara bulk rara bulk e ve la leggiamo creatura umano chierico costo due uno uno bianco per un uno quattro che dice quando enters the battlefield scegli uno rimuove tutti i counter da una target creature non può avere counter finché sun cleanser rimane sul battlefield la seconda esatto è quello che ci interessa target opponent perde tutti i counter quel player non può prendere counter finché rimane in gioco gli energy sono dei counters gli energy sono dei counter toglierli tutti a gratis sostanzialmente non è male non è male soprattutto non li può più guadagnare finché c'è sto male getto in casa sì esatto questo è stato un grande problema assolutamente sì e vedremo dopo perché perché la lista di sky control ha fatto top 8 del sior Javier Dominguez mancava una piccola cosa che ha decretato lui non aveva modo di toglierla soprattutto fledge fa tre danni lui è un uno quattro esatto quindi è proprio apposta un uno quattro incredibile neanche leggendario no poi abbiamo un volatile stone drake questo penso per il mirror match per rubare nadu il drake dei poveri rubi nadu rubi nadu dismember perché è una bella remuva la costo 1 secca nadu secca tante cose ci sta endurance la seconda piastella sereni due teferitam raveler chiaramente anche per il insomma per i mazzi che sono i counter spell ma comunque anche o per non avere interazione anche in un mirror per non avere l'endurance tutte cose qua mi sembra male corde madonna soprattutto che disastro che disastro e una force of vigor perché per le sciucola ne togli due insieme pam pam una volta si faceva su amuleto e saga adesso è su sciucco e saga sciucco e saga ping ping oppure doppio doppio sciucco sì sì ma tanti pitch verdi ci sono fino a morire quindi questa è la lista che vince il pro tour di moda horizon 3 ce ne aspettavamo che nadu fosse forte non così tanto probabilmente non così pressante sul metagame la percentuale era altissima era 25 allora day one era 25% totale che è già un dato molto allarmante sì se sommi tutte le versioni ecco sì perché era 20 era 20% di bunt più 5% di for color quindi arriviamo a un 25,9 che è numeri storicamente altissimi perché scam dell'anno scorso di Jack Bursley sì che vinse Jack Bursley era al 19% e Ogak era al 20 sì Ogak che poi non vinse Ogak no vinse Tron vinse Toralf quell'anno Green Tron Toralf a Barcellona sempre tra l'anno esatto Green Tron di Toralf Toralf Severin sì 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 quello di Karl Market quello di Karl Market diciamolo per il ragazzotto di Karl Market esatto il biondo tedesco e questa è una lista molto dritta vedrà parecchio gioco forse un po' meno online perché saranno un sacco di click esattamente come Emily e Titan che vede poco gioco online perché è un po' noioso con tutti quei nato molto peggio perché su Magic Online in cartaceo non c'è un motivo per cui non ti dovrei concedere la partita e giocare la seconda sì in Magic Online è esattamente il contrario cioè mi devi dimostrare tutta la combo dimostramela tutta e io aspetto perché tanto sono 25 minuti non sono 50 è dura è difficile in ogni caso passiamo alla seconda lista molto interessante che è Monoblack Necrodominance Sjornoma che ha fatto una run pazzesca 10-0 perché era 10-0 me lo ricordo e mazzo fortissimo tra l'altro con una lista un po' particolare perché adesso vedremo tutto però la cosa che salta subito all'occhio è che mancano i One Ring che era considerato una staple sì mancano proprio nelle 75 sì perché era considerato una staple vista la sinergia ovvia con Shjolden ma c'è Sorino Faust Markov che presenta una combo con Soul Spike carta del momento se ce l'avete signori siete ricchi perché Car Market partiva se non sbaglio 50 euro l'una car trader partiva da 70 guarda allora te lo dico subito perché io non ce l'ho chiaramente non ce l'ho mai avuta questa carta qua mi ricordo un po' commandeer no ovviamente no è la minima good in italiano dalla Germania 35 euro quindi 40 dai in chioda anima ok per il set in tedesco 165 euro 40 euro l'una ci comprivi un set di flage adesso sì 40 euro l'una mi sa che prendo flage sì anch'io prendo flage anzi io ce l'ho già in realtà però questo anche perché non è proprio un mazzo che fa per me in ogni caso questa carta si lega a Sorino era particolare perché adesso spiegiamo un po' questa combo qua perché secondo me le persone non la conoscono magari è passato un po' in sordina rispetto a tutto il polverone che ha tirato su Nadu Soul Spike è una carta che dice a costo 7 5 e 2 neri quindi del ciclo di commandeer di Ice Age cugino di commandeer no cosa dico Ice Age col snap col snap stupidissimo East End a costo 7 dice fai 4 danni to target creature role player quindi dove vuoi 20 target adesso è stata errata no? se non sbaglio sì e guadagni 4 vita qual è il problema? puoi rimuovere 2 carte nere dalla tua mano invece di pagare il costo di questa spell perché è tanto importante intanto perché si sposa bene col piano di Necrodominance che è del 9 al marzo che ti fa pescare cari esatto tu sostanzialmente con Necrodominance hai questa piccola finestra tra l'end of turn e il clean up step in cui sostanzialmente tu hai un miliardo di carte in mano ma puoi ancora pitcharti per Soul Spike perché è instant quindi sostanzialmente quindi sostanzialmente l'idea è che Soul Spike ti fa da se vogliamo chiamarlo mana sink in realtà non è mana sink ma è card sink card sink ma soprattutto anche ti buffa i punti vita ti buffa i punti vita non puoi ancora fare queste cose qua però diciamo che Noama più volte ha fatto solo Spike ti sparo 4 Giro Sorin ti sparo altri 4 esatto ti sparo 5 ti sparo 5 perché lui di solito picchia poi si gira sì esatto perché comunque è un 1.4 che è lifelink quindi tu guadagni quel punto vita in caso puoi pagare pure il costo di extort se fai extort ti sparo 6 esatto ti sparo 6 quindi sparare 10 in modern per sostanzialmente 2 mana non è male non è male anche perché 10 punti vita in modern così ando fece e cauli vari eh vanno via sono proprio tanti eh sono tanti punti vita anche perché ricordiamo il meno 1 di Sorin flippato giusto per dare l'int ai nostri ascoltatori soprattutto perché tanti ci ascoltano mentre sono in macchina quindi non hanno la possibilità di vedere le carte quindi in tanti apprezzano il fatto che le leggiamo e il meno 1 di Sorin quando è flippato da Planeswalker dice che fa danno a un qualsiasi target pare al numero di punti vita che hai guadagnato ecco perché più punti vita guadagni più spara danni e diventa tipo un burn una cosa del genere sostanzialmente sì però incredibilmente rinuncia a questo rinuncia ad anello per giocare questo sì che non mi sembra una brutta idea che intanto anche per una questione di pitch chiaro perché chiaramente non è più quell'artefatto un po' che secondo me diventa clunky no? abbiamo chiaramente le solite staple nere perché chiaramente il nero sembra essere ancora uno dei colori più forti del formato perché sta in piedi un mazzo totalmente nero quindi abbiamo due dati White Walker che sono carte che abbiamo già visto e rivisto non staremo a rispiegare Orggy Cibba Masters che si ricompera campione del Pro Tour di nuovo assolutamente Story of the House Markov l'abbiamo già letto molte volte e anche addirittura Wing Con molto veloce peraltro di questa di questa nuova sensation del modern questo è totalmente nuovo sto mazzo Boggart Troller questo si sta giocando anche in Yagmoth quello che tutori sostanzialmente quando entra esili a target players graveyard ed è una terra che poi esatto terra che piccia esatto non è male sì ci può stare e piccia per cosa? per Grif che si riconferma campione del Pro Tour campione di simpatia campione della simpatia 2024 riesce a finire in Top 8 anche con un Nado e ci sono due copie tra l'altro di Monoblack Necromancy necromancy necrodominance in Top 8 quindi non ci siamo ancora liberati di questo nostro grande amico tra l'altro che ha visto una ristampa peraltro come special guest di modernization 3 potete trovarlo nelle booster un'arta ancora più brutta di quella di prima orrenda questa è un po' è un po' particolare però è sceso di prezzo almeno questo chi non è sceso di prezzo secondo te? Sì oltre l'apocalisse sempre le stesse carte una cling to dust per esiliare cose al cimitero in particolare che do flage per fare hate in maniera particolare con flage fa bel lavoro bel lavoro ti guarda pure punti vita con flage tra l'altro perché toglie creatura tre vite esattamente così flop così fa Sorin pazzesco clean to dust carta più forte del modern no no non credo quattro push perché sì perché sì quattro malati rebirth perché dobbiamo scammare ovviamente tre march of red sorrow questa viene direttamente da quello che era monoblack coffers sparito totalmente tra l'altro sì esatto adesso puoi pitcharti tipo pitchare in un sacco di modi di griff di marcia e di soul spike poi abbiamo not dead after all sempre per chiudere il ciclo di scammerie esatto scammerie quattro tozis due felde profane questa è una carta nuova che sta salendo il prezzo sui 2 dollari 50 incredibilmente questa è un uncommon sempre quelle carte quelle lande che puoi mettere stappate pagando tre vite questa è bolt land nera però è un instant che a costo 4 fa destroy target creature role planes walker quindi heroes downfall che inoltre era rara adesso un common un common con una landa dietro quindi vabbè costa 4 però l'unri stampato come un common l'unri stampato come un common heroes downfall io c'ho ancora quelle rare a casa cioè a casa qui i teros con i teros certo quelli di teros con il cos'era il minotauro che stompa il sì c'è un art adesso non me la ricordo perfettamente però l'ho giocata in standard quelli lì bellissimo e anche nel primo pain in cui si giocavano poi abbiamo 4 soft spike ovviamente la carta che abbiamo appena descritto l'arte particolare devo dire meglio di quella di combandir però neanche troppo bella necro dominans ovviamente la carta che è il nome al mazzo che serve a fare draw engine e serve a vincere picciandosi sostanzialmente che tra l'altro la debolezza cioè la sfortuna rispetto alla necropotenza originale quella di pescare le carte e non di mettertele direttamente in mano dall'esilio effettivamente in questo mazzo è un plus incredibile come aveva detto Pento dei bicchieri del passato perché comunque con Sheholdred non è male pescare non è male pescare non è male pescare diventa greve anche perché con Soarin non è male poi spara veramente tanti danni interessante peccato non possa farlo a Istra esatto era davvero devastante poi lande molto poche però in realtà abbiamo tante di quelle flippabili quindi insomma le lande ce ne sono 6 di quelle che sono anche delle spell però ne abbiamo 17 arriviamo a 23 esatto a 23 lande effettive ma sono 17 le lande lande una Blonde Tadmire una Marsh Flats e una Verdancata quindi solamente 3 fetch land 4 c'è anche Pollute Delta bravo esatto quindi 4 fetch land tutte diverse per confondere e 3 castle Locktrain madonna ci serve pescare vogliamo pescare sì una Pyrexian Tower sempre per il giochino con la griff è sempre carino anche fare Soarin di prima esatto non è brutto faccio griff ok Soarin ovviamente saccando la griff sulla stack col trigger sulla stack per due mana nere mettendo i trigger come Dio Comando esatto esatto quindi mettendo prima non saccate prima prima quello di evoco poi quello di guardare la mano sennò prima sacchi poi guardi la mano non ce n'è nulla non lo farei Locust Theater perché è Surveillland no Surveillland sa chi non è un grande fan delle Surveillland in tutti i mazzi Akira Akira non è Surveil Akira dice che in alcuni mazzi le Surveillland sono un po' dei chiodi mi sa che Noama non è d'accordo Noama non è d'accordo ma è un take interessante non so Simone Nazionale sì 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 anche perché qua effettivamente non serve avere il doppio colore no esatto solo per fare questa cosa di Surveill vabbè 7 Swamp una Urborg chiaramente e Lakata come abbiamo letto prima Sideboard qui ovviamente non c'è neanche Karn quindi non è una Wishboard è una Sideboard vera dritta Pit in Needle l'artefattino che disattiva le abilità delle sorsi schiamate si gioca esclusivamente per dire sciuco sì esatto che funziona funziona Sturgical Extraction tre copie tre Break the Ice si gioca esclusivamente per no in realtà per Nadu anche sì beh Contro i Com è molto forte ma sai che no cioè per esempio torno di venerdì scorso mi hanno fatto ah Stonebrain ti tolgo Nadu io ok Urza Saga faccio costrutto Nantucco sopra però in un mazzo con quattro Tottis e quattro Griff se tu ci fai le scarracce non è forte perché la fai subito chiaro ti tolgo la carta boom fai proprio la scammata quella più forte che puoi fare ti togli tre carte tutta la mano per disattivare un deck che schifo sostanzialmente quindi diciamo che il suo utilizzo ce l'ha poi adesso che sorgica sta così bassa io ho pagato un botto di soldi all'epoca sì 19 ho pagato 25 una l'altra ho pagato 30 break the ice grande carta del passato già il passato oddio Modern Horizon 2 è che ormai è ormai molto vecchio due anni fa questa ne abbiamo nominata l'altra volta abbiamo anche un po' consigliata ed effettivamente ha visto molto gioco tre copie per spaccare le Snowland oppure l'Elande che fanno mana in colore quindi trono tutto trono Yugi's Labyrinth spaccate 50 euro di terra con 50 centesimi di carta esatto neanche meno Collective Brutality questo per una vita che non la vedevo questa si un po' 2018 e Dumping Sphere chiaramente sempre per lo stesso motivo che abbiamo nominato prima due Shields Edict carta forte in generale removal anche perché il nero fermo non targetta Nado no è vero each opponent sacrifice non token creature il nado è l'unica boom salta Toxic Deluge ovviamente carta fortissima tanto la vita ce l'abbiamo quindi pagarla non dovrebbe essere troppo un problema e questo per chiudere questa piccola non so questa piccola analisi di Mono Black e Necrodominus di cui non c'è davvero molto da dire perché le carte nuove sono davvero poche tante interazioni che ha questo mazzo le abbiamo già viste quella davvero nuova è quella di Soren in Soul Spike sì e Necrodominus chiaro nel complesso Griffpile sì Griffpile Griffpile classica con un prezzo non proprio vero che ci siamo liberati dei One Ring però comunque ci sono Sheldred che è tipo Master si so iniziano a costare Soul Spike costa un bot ormai 40 l'una sì metà del costo del mazzo sono 7 carte perché sono 4 Soul Spike e 3 Sheldred eh ma sono carte però molto puntuali no? che non giochi in altri architetti no esatto cioè sono soldi che spendi per giocare lì e basta questo mazzo qua cioè Soul Spike devi spendere 267 dollari vedo dalla grafica e per 4 coppie una carta userai solo qui solo qui va bene va bene andiamo avanti andiamo avanti che stiamo già andando molto lunghi però è la puntata del Pro Tour ci sta andare un po' di digressioni il terzo grande protagonista di questa top hate è G-Sky Control un take molto particolare di Javier Dominguez che anche quest'anno non ha vinto il premio come giocatore più simpatico del 2024 si è pure dimenticato un trigger di anello che si è costato un G2 se non sbaglio contro il San Cleanser molto brutto male male perché avremmo potuto fermare il trigger di ingresso di San Cleanser esatto in pratica si è beccato un San Cleanser a caso perché non si è ricordato del trigger che era protetto in realtà quindi non potevi targettarlo perché era protetto da tutto quindi anche dall'abilità triggered nel nostro San Cleanser allora G-Sky Control un take molto strano perché ve lo dico subito mancano le Solitude manca Solitude non c'è Solitude carta fondamentale fondamentale che gli è costata anche un po' di partite perché Solitude è una soluzione pulita per San Cleanser perché lo esilia tu non lo vedi mai più cioè qua l'unico modo è fare Teferi Minus che comunque non è una risoluzione non è una risoluzione perché lui rientra poi ti toglie di nuovo oppure fare flage sopra sì esatto mamma me che schifo è capito che la devi fare due volte perché un 1-4 San Cleanser quindi è un disastro totale un disastro totale tre flage ovviamente carta del momento salita 50-60 euro l'uno fortissimo fortissimo si usa tantissimo quello che vogliamo in questo meta davvero consigliato l'utilizzo non vale mai 50 euro no non vale così tanto quella è una carta da 15-20 massimo massimo 4 Saddlet perché chiaramente non mi ha la solitude è un mazzo che vuole giocare tanto sulla stack come vediamo abbiamo le 4 Saddlet e 4 Force of Negation quindi probabilmente per la paura di Boros Storm di questi mazzi qua probabilmente si probabilmente si di fermare Nantuco quando vuole entrare altrimenti non lo riesco a capire veramente complesso due Teferite Ambravale perché chiaramente è un control poi comunque rimbalzare i pochi elementali non è brutto anche flage non lo so non credo flage non è proprio bellissimo però anche One Ring il solito lupino da control per andare avanti poi abbiamo 4 Galvanic Discharge ovviamente come Remu l'abbiamo parlato già in un video precedente è una delle carte più forti del mazzo tra le mani bassissime è una bella remuola ormai questa qua Common tra l'altro che in realtà vede gioco in Power l'ho provata anche io però in realtà sembra che in Power sia ancora più forte Scred il fatto di uno per pagare energie insomma perché i Kentrip qui c'è Tune the Narrative ok Mother lì c'è Brainstorm Ponder c'è una qualità un po' diversa c'è una qualità legacy dei Kentrip in Power un po' particolare questa cosa poi abbiamo uno Spellsner carta meravigliosa io sto amando Spellsner in questo momento totale 4,75 io 2,2 prendi tutto 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 quanto bellissima una carta che mi dà un sacco di soddisfazioni che mi piace molto l'arto sono legato mi piace non lo so perché questo lupo che salta old style sì 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 molto carta vecchia poi abbiamo 3 Tune the Narrative non 4 particolare questo take 4 Counter Spell ovviamente 3 Rattro Deskies i numeri standard stock quindi non andremo sì questa è la carta più forte del mazzo tra l'altro ha spaicata recentemente meno male finalmente la gente l'ha letta le minime sono sui 9 euro adesso perché chiaramente sono accorti che è una carta molto forte 4 Force Negation come dicevo prima molto reattivo questo mazzo un Invert Polarity uno sola quella che ruba la Spells e vince il Flip ludopazia un pochino ludopazia esatto questo è l'angolo ludopazia di Just Sky Contro però ci sta sì ormai a questo punto ormai ha messo tutto mette anche quella poi pitch Supreme Verdict ecco l'altra soluzione per San Kinsser faticate è un po' particolare 2 lore rebuild 4 warning 2 dress down perché chiaramente fa il giochino con play e anche con gli elementali se vuoi diventare aggro fai dress down ti pitch di salti fai un board un po' particolare come soluzione però può funzionare ci ho vinto una partita una volta molto tempo fa Lande qua molto strano perché ne ha giocato davvero poco che 22 terre con alcuni ingressi particolari perché chiaramente abbiamo una surveillance per colore chiaro per coppia di colori quindi scelta assolutamente corretta 2 hallowed foundry in stock 2 steaming in stock con la mancanza in realtà della secret foundry non c'è la foundry non c'è la foundry perché? non c'è la foundry così esatto quindi questa cosa qua fa diventare un po' più difficile il piano flage ma agevola il blu però a me non conviene io ti dico la verità io gioco la foundry forse sempre per il discorso beh giocando 4 phone forse ha più senso sì perché qualche volta ti ritroverai anche a pagarlo credo ha tantissimo doppio blu ce l'ha in invert polarity ce l'ha in force of negation ce l'ha in counter spell ce l'ha in saddlty vuole castare le spell questo mazzo in realtà vuole grindare parecchio ha il mystic gate che genera il doppio bianco un po' sporchino come soluzione doppia steam vent quindi vuole tanto blu le fetchland sono abbastanza classiche quindi abbiamo 9 fetchland abbiamo scalding tarfall the strand e 4 arena molto molto dritto un'isola una plains e una montagna una montagna e minamo perché si minamo perché si e poi abbiamo monumental henge al posto dell'arena of glory che ho visto in altre liste per fare il trucchetto strano con flage sì perché esatto perché se l'hai speso per castare una creature spell effettivamente tu lo casti per un costo alternativo ma è un cast comunque hai usato il mana per castarlo fixo pure perché serve doppio rosso picchio di 12 picchio di 12 perché entra sparo attacco sparo attacca un 6-6 e guadagno 6 esatto guadagno molta vita anche lifelink secondo me se lo meritava no dai vabbè in ogni caso tornando a noi questo è un po' come riassunto della mana base che è molto banale l'unica cosa questo secret foundry abbiamo questa monumental edge che ve la leggiamo perché ha visto poco gioco finora entra stappata se controlli una pianura quindi molto semplice da realizzare questa cosa qui e devi fecciare howlet foundry sostanzialmente doppio bianco e 2 tappa guarda le prime 5 carte dal tuo library puoi rivelare una carta storica storica come si dice in italiano storica storica tra DS mettertela in mano metti il resto in random order in fondo quindi gli artefatti le cose leggendarie e le saghe sono cose storiche quindi ti prendi wandering sostanzialmente beh tutto in realtà ti prendi anche flage flage è vero perché è leggendario e te feri e te feri va bene dai ci può stare non è una brutta cosa mano bianco a me non piace come effetto è una bella cosa in realtà per questo mazzo come costo per giocare questa carta quindi sulla consistency a me non piace per niente proprio un mazzo non mi ricugliano questo questo si può bollare come se tu c'è il tuo timbro penso nei bicchieri approved questo non è americo approved non è americo approved più che altro perché guardo 4 carte rischiamo di whiffare tantissimo mamma mia sì veramente doppio bianco pure per tappare 7 target in totale anche perché sai vuoi pitcharti e puoi fare questa qua per un po' risollevare questo montaggio carte però hai pochi target 9 non lo so poi se ti entra tappata piangi un botto tantissimo non lo so passiamo alla sideboard che invece è molto più miricuiana perché è un po' più consistent abbiamo consign to memory ovviamente le 3 copie ma sono entrato in questo archetipo per counterare trigger ed ability o color spell disclaimer storm è una trigger ed ability va sulla stack che può essere counterata quindi questo è comodo anche per storm oltre che per gli eldrazi i loro grandi effetti di cui vogliamo liberarci solo guy lantern perché perché no per i flage avversari una così e togli l'altro ci può stare 2 celestial purge che è tornata in auge di nuovo fortissimo togli tutto togli tutto il meta tutto il meta tutto mano black necro dominance e i flage avversari i flage avversari drannith magistrate 3 copie lui raccontava prima un aneddoto della vittoria grazie al grande numero di drannith magistrate che torna in auge finalmente costa sempre di più quanto costa? costa 60 dollari per n3 tu ne hai tipo 20.000 io ho 10 sì ne hai tantissimi perché il core lo sono costata tantissimo lockdown pieno lockdown non c'ho niente da fare nessuno aveva niente da fare però io particolarmente un po' sì però insomma stonks mi sei gravato il momento di liberarsi di qualcuno dai vediamo 10 sono tanti ce ne tieni 8 ci può stare poi abbiamo brato the skies la quarta copia chiaramente obbligatoria carta sempre più forte invert polarity la seconda copia mystical dispute uno per che non mi ricuiana questa cosa qua assolutamente no il quarto flage quindi vedi che ormai quattro flage è diventato il nuovo stock supreme verdict e commandeer così l'uno per per il flavor così si chiude la lista di jesky contro il signor javier dominguez non bricuiano ma comunque molto più forte di miriku perché ha fatto pro tour ha fatto top 8 a pro tour quindi molto molto forte giocatore discretamente forte è andato molto bene tra l'altro è sempre più del mondo anche è andato bene il limited e lui è team con chi è adesso javier dominguez no lui era hareruja una volta no forse ancora hareruja ancora hareruja con la manetta rossa dai me lo ricordo e niente questo per jesky control è una lista non particolare per beginners io ho lavorato con i miei coachi a jesky control abbiamo anche giocato contro ormai si stanno avvicinando tante persone al modern nella nostra community che stanno diventando come noi e questa cosa mi spaventa è molto beh ci sta però ci sta riflette riflette ormai si parla solo di modern e paper nella nostra community meno male in questo momento pochi e pioneer pochi pioneer ancora standard avrà il suo grande momento ormai ad agosto settembre manca poco in realtà e che dire di questa lista ancora niente non è per beginner io le solite le metterei sinceramente e molte spell vuole pitchare tanto quindi non è facile da utilizzare anche un po' per questo motivo esatto sta sempre un po' con l'acqua alla gola è difficile anche orientarsi in questo modo di giocare soprattutto se si è beginner se si è entrati da poco nel formato e comunque costa un botto di soldi anche su MTGO deve avere davvero tanti tics per noleggiarla ti serve un avvolamento gold sì espergorios questo è un onore a Boromation non è arrivato in topotto ma ha fatto 10 z ha fatto perfect un mazzo che in realtà sulla carta credo che nessuno avrebbe detto ah questo farà perfect al pro tour invece ma se uno poi ci pensa effettivamente se tu becchi sul field solo NADU questo è molto forte perché gli smonti alla mano gli andiamo sopra ed è molto 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 facile in realtà farlo è quello che va sai quelli strategici che vanno on the top sì 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 proprio sopra cioè gli lanci addosso un Atrax un Grizzle e ne fai il disastro alla fine carte nuove abbiamo la Psychic Frog Psychic Frog che è fortissima ovviamente non abbastanza da giustificare un 4x no no anche perché anche perché tendenzialmente se abbiamo due mana è perché vogliamo fare Gory non per fare l'Aranocchia è capito chiudi in fretta c'è bisogno anche di poche terre quindi rischi anche di magari fai Psychic Frog e te la spaccano e tu hai perso un tour hai fatto Time Walk però Psychic Frog è comunque fortissima perché ci fa la discard outlet sostanzialmente a gratis e poi ci ridai indietro delle carte se fa danno a ovversario o Prince Walker questa è una cosa particolare la prima volta che viene scritta più o meno secondo me e poi Pitch per Griff che non è mai male Pitch per Griff sì esatto in realtà quindi abbiamo le solite carte Varage Archeologist la Priest of Elrides che torna per rianimare le nostre cose doppio Pitch poi esatto doppio Pitch sia per Soldier che per Griff Attrax ha 4 copie e Grisevran 2 4 Ephemerate quindi full proprio tutto committato sul blinkare cose sì sì ma è stock il resto è stock Prismatic Ending Thotis Goddess Vengeance Tainted Indulgence Force Negation le Lande sono sempre le stesse quindi con le Surveil per colore quindi abbiamo Under City Sewers Shadow di Backstreet e Meticulous Arcaio per le 3 coppie di colore poi il resto sono una basica per tipo e le Fetchlands e le Shocklands chiaramente affiliate nei colori del mazzo Sideboard abbiamo 15 carte molto interessanti devo dire nella scelta soprattutto perché metti dentro 3 Wrath of the Skies sì talmente forte che la giochi in un mazzo che non ha modi di generare sì 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 cioè lo fai cioè paghi il costo lo fai a 1 a 1 a 0 e fratti tutto con Sign2Memory 3 copie ormai è diventata stock di tutti i mazzicano blu Nike Spellbomb perché sì non è neanche saga cioè quindi devi pescarla tu questa carta qui e per il Mirror sostanzialmente per Mirror per Storm anche per evitare il loop di Endurance con Nado particolare sì 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 Celestial Purge perché sì anche perché in questi colori forse non hai delle soluzioni più efficienti di questa anche per tutti i discard outlet tutti i discard effect ce li hai main deck quindi non puoi fare di più di così Dranith Magistrate l'abbiamo detto prima un Teferitum Reveler e una Ley Line non sentiti e problema di Gorio qual è in questo meta nessuno giocava le Line of the Void perché tutti avevano gli occhi puntati su Nado e su Storm sì insomma tra l'altro grande delusione con 33% di win rate sì è andata davvero male nonostante sia stato pilotato anche da LESV che comunque è uno che è in Storm ci naviga un pochino su Storm però appena si tornano a giocare le Line of the Void Gorio Gorio scompare quindi questo è un po' per presentare quello che è stato il Pro Tour che è il Pro Tour di Modern Horizon 3 tante sorprese tante carte nuove tanti mazzi nuovi quindi io sono molto contento che siano state giocate nuove carte non bellissimo vedere questo questo Nado spropositamente forte nel metagame è così pressante anche perché Mirror Match finire un Pro Tour con due Mirror Match con tre Mirror Match perché le semifinali erano dei Mirror sì top 4 erano 4 Nado quindi Mirror Mirror e Mirror in finale quindi tre partite al meglio delle 5 Mirror Match di combo wow non interattivo e le altre due della top 8 c'erano comunque dei Nado perché tutti erano abbinati con dei Nado quindi è stato è stato orrendo il dei due è stato proprio brutto ci tengo a fare questa piccola parentesi perché per chi ha visto il Pro Tour nella live del canale dell'Ottimo Akira tre Marchi c'era anche Jack Torrance sono stati bravissimi a rendere intrattenente un dei due è un top 8 davvero 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 brutti non credo di esagerare quando dico che è uno dei Pro Tour più brutti che abbia mai visto a chi piace il gioco questo è un po' brutto brutto e mentre invece purtroppo c'era cioè purtroppo va a toccare una fase limite incredibile bellissimo anche perché comunque i risultati sono stati molto interessanti i grandi drafter si sono riconfermati ovviamente però ovviamente nessuno voleva draftare verde e rosso perché tutti si sono spaventati blu nero che è sempre stato un po' bruttino in questo limited diciamo come archetipo invece ha fraivato totalmente perché i bravi giocatori non draftano mai il best deck il più piccato diciamo che ci sono state le crisali si chiama la crisalis comunque la crisalis dall'ottimo italiano Domenico Cava che ce l'ha fatta di nuovo a disegnare una carta che ha rotto un limited non è stata piccata per prima incredibilmente molto strano anche perché è molto forte in pauper molto forte in pauper molto forte in limited ti ho mandato la foto del draft molto interessante ragazzi così per chiudere siamo arrivati più o meno sulla cinquantina di minuti stiamo tornando a quelli che sono i vecchi video no ovviamente però il Pro Tour richiede sempre un posto speciale insomma in quella che è la nostra programmazione con un po' di malincuore perché non è stato il più bello del Pro Tour nonostante fosse Modern il nuovo set Modern Horizon molto hype molte aspettative forse che sono state un po' deluse da quello che sembra un po' hogak questo sproposito di un deck combo peggio come rappresentazione è stato peggio come rappresentazione peggio poi come power level se ne può parlare molto diverso oggi abbiamo più strumenti ne parleremo ma questa è una cosa che vi faremo vedere molto più avanti con il nostro bellissimo Angolo del Flame quindi ragazzi grazie per essere stati con noi mi raccomando commentate diteci le vostre opinioni noi stiamo parlando tantissimo con i nostri coci per quanto riguarda l'ingresso nel formato Modern che sta avendo un sacco di interesse eh sì pure il nostro gruppo che era si è aggrappato assolutamente painerosi ce la stanno facendo flage comprati incredibile sono volati dei soldi dei soldi ragazzi grazie di essere stati con noi e noi ci vediamo al prossimo episodio un saluto da Miritu e pento dei bicchieri ciao 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 ciao